Alessandro! Prima volta che mi vedi qui, eh? Brava mia! Eh, è un piatto. 3,7. Non è stato il mio, eh? Quanto? 42. Bravissimo! Sì, ma prima volta che mi vedi un spasso qui, sì. Spero che è l'ultima. 3,80. Sì, ciao! Ti vogliono che le conosciute, Sónia. No, basta. Non ci sono. Sì, ma prima volta che mi vedi un spasso qui, eh? Basti, top, da. Vedi un spasso. E non è stato un spasso. 3,63. Sì, è stato un spasso. Grazie. Sì, è stato un spasso. 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 Siete stati velocissimi oggi, caspita! Mamma mia, siete stati bravissimi! Ah, me l'ho ferma a Massa, Massa è repentino qua, me veniva... Madonna, ma oggi avete dato veramente tutto! Sì, beh, di solito lo faccio in 53, 54, 51 e 13! Cavolo, bravissima! Ma tutti veloci oggi, manca solo la Simonetta! Vai, grande! Vai, Simonetta! Foto alla stampa! 4,95, 3,24... Arrivando anche fino a 8, dottor Adolfo... 5,5,138... 5,5,4,6,6,6,6... Ti tocca rimanere così, però... Grazie, ragazzi, anche a voi, alla prossima! Adesso passeranno a te i tappellovie... Bravo, facciamo male! Bravo! 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 Un figlio fu con Anna Poiana Grichiana... Al primo posto! Buon appetito! Yet,왜 viaggio tornaremo la propria bandica a Gia! Esatto!